515 microimprese in meno, metà delle quali nel comparto dell'edilizia. Si chiude in negativo il 2018 dell'artigianato abruzzese, ormai malato cronico dell'economia regionale. Secondo l'analisi condotta per la CNA Abruzzo da Aldoronci, su dati di nuove imprese, nel 2018 le iscrizioni ammontavano a 1.604 le cessazioni a 2.119, con una differenza negativa dell'1,67% contro l'1,01% italiano. Tra le province abruzzese a soffrire di più è quella di Chieti, poi l'Aquila e Teramo con cali rispettivamente di 146, 141 e 132 unità. In modo un po' più tenue il calo si registra anche nel Pescarese, dove il saldo negativo si attesta a quota 96. Il quadro è ancora più chiaro, precisa la CNA, guardando i diversi settori economici, a spingere verso il basso la microimpresa e l'artigianato e soprattutto il comparto delle costruzioni, meno 256 unità, ben 104 localizzate nel più grande cantiere d'Europa, ovvero l'Aquilano, contro le 97 del manifatturiero, le 58 della ristorazione, le 56 dei trasporti e le 16 dell'autoriparazione. Segno più invece per i servizi alla persona, più 33, pulizie e giardinaggio, più 11. Eppure artigianato e microimpresa restano in Abruzzo il più vasto giacimento di occupati, dice ancora la relazione della CNA, perché rappresentano il 96% del totale e impiegano il 56% degli occupati, mentre in Italia rappresentano il 95% impiegando il 45%. La legge di bilancio 2019, commenta l'associazione di categoria, ha stabilito che fino al 31 di dicembre prossimo il nuovo tetto per gli appalti ad affidamento diretto da parte dei sindaci passi da 40 a 150 mila euro. In pratica i comuni decideranno direttamente su contratti fino a questo tetto, senza dover motivare la scelta e senza competizione tra aziende. Con la misura si prevede di sbloccare lavori per 6-7 miliardi. Si tratta di una misura che potrebbe favorire la microimpresa, continua ancora la CNA, anche se ovviamente occorrerà controllare la trasparenza degli affidamenti e delle procedure. Quanto all'Abruzzo, che si avvia al voto, prosegue ancora l'associazione di categoria, abbiamo sottoposto all'attenzione dei candidati in campo un pacchetto di misure e di provvedimenti, dal credito alla trasmissione ed impresa, dagli aiuti per l'internazionalizzazione e allo sviluppo della digitalizzazione, che a nostro avviso, dice sempre CNA, possano aiutare l'artigianato abruzzese in sofferenza.